stamattina mi sono svegliato e avevo voglia di focaccia o di pizza col prosciutto che è una delle cose che mi manca di più qui a londra e abbiamo trovato questo posto a london fields quali sono le tue aspettative? medio alte aspettative medio alte vediamo che succede intanto se va male ci siamo fatti un bel giro in bici ma sai da che lato dobbiamo andare? questo è Broadway Market uno dei miei mercatini preferiti dove fanno praticamente sia street food che bancarelle e vendono vestiti di seconda mano oppure cose artigianali veramente carino e un po fuori dalla zona turistica di londra siamo qui a est la signora qui dietro di me sta facendo tipo un fiore di zucchero filato una cosa stranissima alla fine del mercato c'è una passeggiata molto carina che ti porterà fino a vittoria park sto cercando un negozietto turco che fa il gozleme per farvi vedere come si chiama perché è buonissimo e costa proprio poco quindi se adesso lo trovo vi dico come si chiama eccolo qua è proprio questo qui fa il gozleme che praticamente è una pizza ripiena farcita con o le verdure spinaci o le patate e pensate l'ultima volta che sono venuto qui praticamente sono entrato per chiederne uno solo che era gigante quindi ho chiesto se me ne facessero metà e la signora praticamente me ne ha regalato uno intero perché ha detto che stavano chiedendo se non l'avrebbero buttati se siete da queste parti e vive il turco provatelo e poi questo è il parchetto che si chiama london fields dove la gente d'estate viene a fare una delle cose tipiche qui a londra cioè viene al parco si sdraia e prende il sole come se stessimo al mare esatto come se stessimo al mare mentre cerchiamo il posto abbiamo appena scoperto che c'è un competitor che fa le rosette ripiene ma oggi siamo venuti per la fugaccia come se stiamo aspettando la nostra focaccina ripiena come se stessimo al mare poi tu hai detto come si stessimo al mare e se stessimo al mare come si stessimo al mare per te mon amore sembrano buonissime e questo è il tuo tavolo che ci stessimo al mare non mi piace non mi piace buona buona aprivi E' enorme, c'è come soffie di ricotta. Paolo, mi aiutami. Buonissimo. Questa pizzetta mi ha messo cappa o la mia scruola. Quindi adesso dobbiamo trovare un caffè. Su cosa ci dobbiamo basare per scegliere questo caffè? Su niente, tentare la fortuna. Secondo me, come regola generale, quando i tosti sono così carini, il caffè fa schifo. E le recensioni di quella Great Coffee. Esatto, vediamo. Facciamo un sondaggio. Secondo voi qual è? L'orario limite per prendere un cappuccino. Esatto. Cioè, oltre quale orario... Non si può bere più. Esatto. Guardate che ore sono. Due e quaranta sette. Qual è l'ente? Sì. Andrilo quello! Andrilo. Ma non ci rimane. Ci stanno offrire il latte. Amate la bocca in casa. Non so. Quindi comunque oggi abbiamo speso. 30 pound e ci siamo portati a casa. Un panino a testa. Grande. Grande. Una focaccia grande. Un caffè a testa e una bifida a testa. Siamo andati a risparmio oggi. 15 pound a testa per tre cose. Mamma mia. Comeriggio molto carino. Adesso ci aspetta una bicicletta di 20 minuti. Un po' in salita per tornare a casa. E noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao. Ciao.